Cos'è accaduto a Jane Alexander? Sono in tanti a chiederselo dopo la sua uscita dalla casa del grande fratello Vip Il pubblico del reality si aspettava di scoprire, dopo la sua eliminazione di giovedì, cosa fosse accaduto con Elia Fongaro, dopo il bacio appassionato in studio, e con l'ex compagno Gianmarco Amicarelli, eppure ad oggi l'attrice ha preferito non lasciare dichiarazioni, né ai settimanali né tanto meno in tv Uniche notizie su Jane arrivano dal suo profilo Instagram, dove nelle ultime ore ha pubblicato un lungo messaggio accompagnato da un suo bellissimo scatto Piove! Sono per strada senza ombrello e no, non è una pioggia forte ma la giornata uggiosa mi si abisce, infatti Esordisce la Alexander nel suo lungo post. Ma la parte più importante del suo messaggio arriva subito dopo, quando l'ex Jeffina sembra voler esprimere i suoi sentimenti attuali Lo sfogo di Jane Alexander su Instagram.Così, nel suo post, Jane Alexander scrive, Dico in parte perché di cose belle ce ne sono tante, e sorrido come una scema senza motivo, ma mi viene anche da piangere e faccio fatica a mangiare, e ogni passo che faccio porta nella direzione giusta, ma costa fatica E conclude, sono circondata da amore, e questo è tutto. Respira. Respira. Un messaggio non proprio chiaro è quello dell'Alexander che può essere interpretato in vari modi Quello che è certo è che, dopo un'avventura così intensa come quella al grande fratello Vip, che tante cose ha cambiato nella sua vita, ora Jane cerca di rimettere a posto tutti i pezzi del suo cuore E sicuramente a breve scopriremo cos'è accaduto dopo giovedì scorso, ultimo giorno al grande fratello Vip Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like